salve a tutti ragazzi bentornato benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovo video vi devo aggiornare un po sulla situazione perché nell'ultimo appuntamento non eravamo qui qualcuno magari che ha visto il video se lo ricorderà purtroppo avevo registrato tre episodi ma avevano problemi di audio sia quello mio del parlato sia del gioco sentivo tutto a scatti e ho preso cancellato tutto quanto quindi vi aggiorno un po velocemente cosa cosa sono andare a fare allora prima di tutto giusto per toglierci subito il dente mi sono ammalato e onestamente non so manco io per me perché non ho mangiato niente che potesse ammalarmi ho bevuto dalla da una fontanella che avevo trovato in una in un paesino non lo so perché forse la temperatura non lo so comunque siamo siamo ammalati lungo poi tutte le puntate ovviamente che avevo fatto vedete già che ho questo questo fucile anche se abbastanza talneggiato e purtroppo ma se che non c'è il kit per per sistemare le armi no comunque sono andato nei pressi della di una zona dove c'era l'elicottero abbattuto e ho recuperato appunto quest'arma con i caricatori ho recuperato un po di di cosette tra cui vabbè sta sta cosa che va messo sul coprifugile per rendere o mimetico i corpi ho recuperato una bussola ho recuperato anche una mappa a una cartina turistica alcuni proiettili anche se comunque non ne ho il non ho l'arma adatta però qualcosina appunto l'ho recuperato ho recuperato i guanti gli schiarponi insomma qualcosetta qualcosetta c'era e l'ho presa diciamo che il grosso modo dovremmo essere a parte che vabbè io guardando la cartina non è che mi ricordo proprio bene bene però avevo preso il sentiero verde per l'aeroporto allora aspettare perché comunque con la cosa dei sentieri però iniziato un attimo ad orientare allora qui era l'aeroporto io l'avevo preso qua avevo fatto tutta questa strada principale avevo boccato il sentiero rosso qui c'è ci sono i cartelli qui prende ho preso quello verde e in questa zona qui grosso modo ovviamente c'era il l'elicottero quindi ho fatto questa piccola devi anzi io non mi ricordo se era qua o qua va bene insomma da ste parti perché mi ricordo qui c'è la torre la torre radio e quindi la continuavo a vedere quindi ero abbastanza vicino comunque ho preso la roba quello che c'era dell'elicottero e si era fatta sera quindi sono dovuto ritornare indietro adesso ci troviamo nella struttura qui vicino alla appunto alla torre radio quello che voglio fare finché riusciamo e non non moriamo è quello di riprendere il sentiero verde che è quello che mi portava il più vicino possibile grosso modo insomma all'aeroporto perché l'aeroporto è qui vedete il sentiero verde ci passa più o meno vicino quindi è quella la strada che possiamo possiamo prendere malgrado insomma mi mi serva un penso dell'antibiotice o qualcosa del genere per per cercare di di curarmi quindi vediamo vediamo quello che riusciamo a fare dove arriviamo e eventualmente torniamo indietro mi dispiace per se non toccherebbe andare qui in città e non so se c'è una clinica o qualcosa qui so se sto simbolo tipo croce possa indicare la presenza di una clinica o meno nel caso c'è da ritornare indietro dipende la strada qua anzi no se lo sprendiamo questa vabbè potremmo far così che sono qui andiamo in mezzo mezzo al nulla ripeto mi dispiace perché comunque ho fatto un po di di strada non avevo assolutamente trovato player da da scontrarmi diciamo però insomma avevamo fatto comunque un po di strada ho rosicato veramente tanto quando ho controllato perché poi io giustamente non è che alla fine di ogni episodio vado a controllare che tutto sia sia funzionante ma dopo il terzo episodio quando li stavo per cominciare a montare ho detto questo non va bene fammi vedere gli altri e effettivamente anche gli altri erano erano così nella con la stessa problematica la testa fosse stava un attimo la luminosità e non solo di zio perso perso anche altri giochi in verità quindi va bene allora vediamo un attimino di orientarci più che altro infatti scusca un po la vista insomma un po una situazione complicata dicevo mi serve da riprendere la strada intanto vediamo se qua troviamo qualcosa assolutamente questa che è una fondina vabbè la fondina sti cavoli dai allora mi serve la strada che porta verso fuori ora non so se questa ma questa direi che porta uno spiazzo quindi odio boh 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 la faceva così facile sta cosa sperando che non mi viene nessuna che mi ammazza devo trovare sta strada qua qui c'è il sentiero che non credo che sia quello laggiù li mi sembra che vada a finire a sentiero quindi no non mi serve andiamo di qua proseguiamo lungo la strada e cerchiamo di arrivare lì in quella città sperando di non incrociare qualcuno che possa romperci le scatole e prima che ci ammazzano perché altro anche le brutte proviamo sto fucire vediamo come si comporta vediamo se troviamo qualcosina perché noi ovviamente siamo sempre in cerca di archite da cucino pensavo fosse archite per le armi ma da un sistema di un'arma allora direi che questa può essere considerata la strada che fa per noi quindi poi andremo lì a destra e mi pare là giù si sembra di vedere delle case o qualcos'altro insomma dobbiamo andare là è l'unica l'unica salvezza che abbiamo effettivamente riusciamo anche a trovare quello che ci serve non è mica detto andiamo per scontato che troviamo tutto quindi dobbiamo soltanto sperare intanto che andiamo mi finisco di mangiare queste pesche sciroppate e poi mi sa che ho pure finito la roba da mangiare vediamo un po' come come è la situazione ho rosicato sia i file che erano andati persi ma perché altro come ero riuscito un attimo ad orientarmi perché una volta che ho beccato il sentiero poi ho iniziato a seguirlo e poi con la diramazione ancora prima di trovare la cartina con la diramazione poi sono riuscito a cioè nella diramazione dei sentieri c'era la cartina quella statica diciamo quella grossa che si trova ogni tanto in giro quindi lì ho boccato quello verde e poi ho trovato pure la cartina quella che portatile diciamo purtroppo è andato è andato perduto tutto tutto il materiale sperando che questo video vada vada bene purtroppo ci sono qui i giochi e tizzi ovviamente uno di quelli che la volta che ho fatto il game plan è che diceva vabbè torno indietro lo rifaccio anche se è comunque una rottura delle scatole però insomma varie volte mi è capitato magari nei giochi single player che vada a ricaricare un salvataggio vecchio e diceva vabbè rifacciamo perché poi andando a rivedere il video noto che c'è qualche problema tecnico ma Codizzi una volta che l'hai fatto l'hai fatto quindi posso fare altro che andarvelo a raccontare purtroppo allora vediamo un attimino qui c'è un cartello che sicuramente potrebbe tornarci utile intanto mettiamola un attimo giù allora dovremmo andare verso Topka ok Topka qui a sinistra un chilometro penso ok certo questa cosa che ci vediamo sfocati assolutamente non ci aiuta dannazione la cartina sembrava molto più lontano vabbè le brutte poi facciamo la strada ridoso se riusciamo a uscirne vivi e nessuno ci ammazza anche perché quando sono entrato nel serve c'era addirittura la coda quindi credo che sia abbastanza abbastanza pienotto abbiamo pure un bel po' di colpi per per l'arma vedo che abbia pure un doppio mirino perché c'ha questo eppure quell'altro però devo capire qual è il il tasto per switchare da uno all'altro c'ha troppi troppi tasti sto gioco io ho finito quelli del tasterino numerico purtroppo a parte quest'arma che comunque non so magari è buona oppure no ma c'era un altro player insomma cosa ho preso però perlomeno l'ho impaurito non so se bisogna andare a piallo o meno occhio perché fa finire che prega a parte sta ma fa una cacera assurda cazzo sta tornato la cucciara da qualche parte o sta infrattato da qualche parte cazzo è una cazzella scusa eh vabbè andiamo se ne va perché scusi ok che noi stavamo un po' più lontano ma me lo sarei aspettato vedere correre da qualche parte qua lo so ciecato io è facile non lo escluderei non so è finito raga che c'ho pure la vista annebbiata però insomma cazzo ho sparato un fantasma chi cazzo ho sparato è impossibile che l'ho ammazzato quindi vabbè non 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 lo so anche perché cioè io l'ho visto che si è girato quindi come minimo da qualche parte qua mi sarei aspettato di vederlo correre quindi o sta nascosto di qualche parte vabbè non lo so raga io non vedo più niente vede nessuno anzi già che l'ho visto laterale vado presto attenzione perché se comunque questo prende me segue magari potrebbe avere cibri lui in arma io me ne vado così tranquillo ma insomma questa ogni tanto che si annebbia vista proprio avemmo un handicap maggiore dove cazzo sta boh fatto male a scappare o se ne darà gambe come se non ci fossero domani perché altrimenti non si capisce posso io che non vedo eh vabbè non lo so vabbè concentriamoci qua non so se questa è la città che che mi interessa a me non ho visto il il cartello il problema è che questo fatto che ogni tanto sfaga la visuale mi dà un fastidio che non immaginate questi erano corpi ben due tra l'altro a parte sto coso che non mi fa vedere niente sto fucile che sembra che ce l'ho io addosso la la mimetica ma non è così da zitto che chi non ci vede ci sente non è morivo malissimo qua proprio male male fa pure a calare il sole questo già ci avete sfogato sembravano dei colpi silenziati o di quella pistoletta col silenziatore incorporato tipo sto cercando di vedere ma non è facile lì c'è uno zombie però lì c'è la cartina e lì c'è un player l'ho visto uno che correva particolarmente Arzillo non so se è un player o uno di quei zombie che corrono cazzo stava eccolo l'ho visto entrare là dentro ma non so se era un player se la visuale mi aiutasse no no era un player un player cazzo è morto ma vuol dire che quell'altro pure l'aveva ammazzato quanto cazzo me ne fa sta arma ma che è one shot one kill questa arma io non so se è un player o zombie vabbè le brutte sembra ma pazienza ma voglio andare a controllare ah no ma sta la sta oh cittua cazzo sei ma t'ho visto per terra l'avevo visto o si è buttato per terra per scappare è mortacci vostro insomma ancora che da che parte mi sparano dove cazzo sei ma che sto stando a sparare tra di loro o c'è un altro perché io non l'ho capito sta cosa guarda come sta ma erano zombie però o secolo zombie magari scusami io che cazzo ho ammazzato ammesso che sia morto io ho visto cate qualcuno però secondo me nel dubbio quello lo sa buttare per terra mannaggia la visu che non mi aiuta non so neanche che cosa c'aveva quello ho veramente facendo fatica raga non riesco proprio a vedere bene erano zombie non lo so potrei andare a vedere lì com'era la situazione però non mi fido raga non mi fido tanto come sto anche se mi metto a lutare le persone perdo solo tempo non è una schioppettata si è appresa qua dentro sta ma cazzo sei cazzo sta cazzo te sei messo che puttana o zombie di merda il tuo pian corpo mi ha fatto cazzo cazzo lo so io fai un culo a parte perché c'ha il cappelletto questo beh il tizio sta lì il problema è che oh questa arma ha ammazzato lui oh no ah questo c'ha solo zaino a parte che magari qualcuno l'ha l'ha lootato sta pure a calasire regà eh casire però è un casino il problema è che non si vedono le le finestre superiori anche perché se questo si è messo qui e magari si sta pure a ha pure sloggiato io questo non lo so ovviamente non so mai non penso che lui possa vedermi da là perché se no è una rosichera se lui riesce a vedermi da fuori io non riesco a vedere lui però in sta casa c'ha tre uscite quella davanti queste due laterali io che faccio una cacciata incredibile sto tipo mezzo morendo non c'è proprio niente manco da mangiare dannazione di sicuro non lo vado a cercare dentro la casa per me sta bene pure indosta però se lo riuscissi a trovare magari che ne so alla fine morimo e via non so se quello da staccionato l'ho ammazzato io o se lui si è trovato qualcun altro e l'ha ammazzato perché la schioppiettata gliel'ho tirato l'ho visto cadere a terra ma subito dopo ho visto un altro che si è rialzato quindi sicuro si è buttato a terra e poi mi ha mi ha sparato però non mi ha preso però ho sentito poi l'altro sparo quindi potrebbe aver incontrato qualcun altro mentre tentava la fuga e l'ha ucciso che era quello lì che abbiamo visto prima è strano che c'è uno zeno del genere ma non hai niente addosso quindi di sicuro è stato lutato vabbè frega ma se quello per assurdo vorrebbe pure slogga e finirla lì noi non so manco quanta quanta vita possiamo ancora avere vabbè dai mose dai speriamo di non incontrare qualcun altro perché perché cavolo avevamo già beccato due due player tre player non so quanti ne erano in verità vediamo un po' se riusciamo a beve un attimo finiamo i sapori tutta e via e niente stavo proprio messi male male a parte ma pure parla del tizio non ho mica capito che cosa volesse che sarà una clinica da ste parti speriamo controlliamo un po' in giro tanto comunque qualcosa da mangiare dobbiamo cercare di caccia di caccia di caccia di caccia l'hiamo fatti se poi se poi si può si può se cercare di capire se c'è una clinica o qualcosa o se mi devo magari spostare più nel centro città caccia caccia fatto non so sicuro che sia questa la città ma credo di si metà un chilometro dovrebbe essere questa ma appunto potrebbe potrebbe anche palle potrebbe non avere una farmacia o qualcosa del genere si vieni qua eh no questa è tutta zona industriale zona industriale vabbè troviamo un posto dove sta ragazzi dove passare la notte sperando che non ci venga da rompere le scatole ho visto qualcuno ho un player o uno zombie non l'ho capito no direi che è uno zombie fanculo sa pure in che è stata l'arma arma di merda dai sbloccala niente si è rotta ok tre ore cazzo ho perso quel tizio facevo lo zombie e niente l'ho perso mannazze a parte che vabbè ero lontano però mannaggia la misera mi sarebbe piaciuto dargli un'altra scopettata e niente non si vede più niente dammi se va dammi oh dammi se senti gli spari gli spari si sentono ecco come eh sta qua sta oh sto a sentire bello vicino capirai vediamo se qualcuno ci viene a rompere le scatole eccolo zombie antiche caccia vabbè raga se morimo amen cazzo sta questo sta che la pistoletta quella con il silenziatore sta a sparare un casino dei corti antiche caccia che fanno tutte le malattie il raffreddore tutto ciò vabbè no via basta vorriva un'altra volta dai dovrei andarla a cercare ma non sta calando troppo la sera sta a sparare vicino però eh a te è brutto di giocare questo la doppietta questa cortoraggio fa male qualcuno che sta vicino e vabbè e vabbè e vabbè la donna cosa buona nostra è che se vuole salire qua deve salire non ci sono altre vie forse il rumore che sentivo era la vegetazione intorno non lo so ho troppo rumore può essere zombie magari potrebbe essere zombie va bene ragazzi è notte è meglio star qui poi se un player arriva e apre la porta allora io come sempre ragazzi vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo vi invito se fa piacere lasciarmi un mi piace un commentino ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto in descrizione sto sempre un attimo su archiva là perché qua ah zombie in descrizione trovate i link a tutti i miei social e in alto a destra la like che vi riporta la pista del titolo se avete saltato qualche appuntamento io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti